Il primo tempo è Geni Barazza, contenuto da Piacenza, Ferretti a distribuire, a cercare di Sevanek, il pallonetto, ancora Moghi Gennaro, ancora però nel campo di Piacenza, Ferretti, ma non è leggera, a cercare di Sevanek, l'opposta a Belgia, la difesa di Maurizio Adonà, con Nicolova a piazzare quel problema, c'è sempre Stefania Sanson, l'olandese Meiner attacca, questo, ancora un muro, con Lucia Bosetti, poi l'attacco da parte di Menes, con Lloyd, Moghi Gennaro, alzare questo pallone, per l'attacco di Nicolova, ancora Sanson, senza fiato, con le bobole d'ossigeno, Meiner si attacca al suo pallone, ancora Moghi Gennaro, a salvare la palla, con l'attacco di Nicolova, ancora Sanson, Ferretti, la pipe di Lucia Bosetti, il muro che si apre, ancora un salvataggio, ancora Moghi Gennaro, tendone a mettere ordine leggeri, prova con questo bagger, senza respiro, Lisevanek, ancora un muro di Conegliano, Ferretti, a cercare l'olandese Meiner, diagonale, ma c'è Nicolova, sono molto stanchi, la tede in campo, ci pensa Barcellini, a tirare una palla in lungo linea fuori, veramente di poco. Che coraggio Barcellini, che coraggio, che coraggio, ha cercato la palla più difficile della serata, in apnea. Attenzione, attenzione perché c'è, forse, aspettiamo un po' che succede perché c'è qualche, la palla è buona, la palla è buona, attenzione, era stata data prima, sentiamo leggeri col primo anno. Mi cadde assolutamente secondo, la palla è dentro. Mauro Melazzer e Roberto Boris in coppia, danno, l'ok, il semaforo verde alla Barcellini, mamma mia. Che giocata, adesso la andiamo a rivedere, uno scambio lunghissimo, ma chi di Gennaro, il cambio intanto torna, 25 ore in, uno scambio veramente interminabile, bellissimo, spettacolare, lo metteremo su YouTube, la Lega, pallavolo, femminile in serie A, questo scambio lo metterà. Barcellini tira sulla riga, sulla riga Cristina Barcellini, la palla viene prima indicata e poi viene corretta immediatamente. Esattamente perché ha visto subito lo scambio.